ciao ragazzi buonas dias niente dopo 4 5 giorni è tornato in bel tempo era ora c'è un bel sole c'è un pochettino di vento ma si sta bene spero che i video che vi ho mandato ieri sono belli vi sono piaciuti ma a quanto pare vi sembra di sì ok ragazzi esco un po vado a fare un diretto anche per il lavoro vi faccio vedere e faccio il video pure a dopo facciamo una panorama a queste case che sono veramente carine sono due passi della caglia principale proprio vedete sì molto bello spettacolare anche la giornata è spettacolare oggi queste qua sono delle case che sono sopra e sotto con la piscina di dietro e dalla parte di dietro nella piscina quindi sono belle veramente lo so perché sono entrato qua dentro a trovare un mio amico tre anni famiglia per esempio tre o quattro anni fa lo chef paolo eccomi qua al primo abbraccio guardate come si vede l'acqua ragazzi e guardate anche la gente che sta a prendersi il sole un pochettino di gente sta al mare si e quindi gustiamoci l'acqua quindi non è male oggi spettacolo ragazzi relax su questa panchina è uno spettacolo girare il video che colori ragazzi veramente bello veramente bello veramente 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 ecco il passeo da Venezia il passeo marittimo da passeggiata andiamo più avanti vediamo cosa c'è il sito che ho beccato i miei amici qua al mare se non mi vedono non gli dico niente così quando guardano il video si vedono sono lì tutti tre che parlano Francesco la moglie la moglie di Giancarlo vengono sempre qua ah c'è pure Giancarlo forse nell'acqua io andiamo stavano facendo terzo e io se lì con il passeo speriamo che non siano accorti ancora non mi hanno visto bellissimo quindi lo vedranno su youtube che bello ragazzi eppure qua non si può fare i bagno c'è sempre gente io non lo so vede i capelli vi vieto eppure e sta pieno di gente e siamo sulla caia principale questo qua è tutto quello che c'è in questo momento spero la cosa più bella che c'è il sole giornata veramente perfetta che è un po' di caccia in questo che è un po' di caccia in questo che è un po' di caccia in questo che giornata goduta come si dice che giornata veramente goduria una goduria scusate che mi sono un po' pulito con la bocca quindi arrivano 40-50 al giorno continuo vediamo se si sblocca l'Inghilterra vediamo che passa che qua i grossi stanno aspettando solo gli inglesi e i tedeschi naturalmente i grossi ristoranti i grossi hotel ci vivono con gli inglesi vi ho fatto un piccolo video perché molto probabilmente esco stasera vi faccio un altro quindi a parte che ho dovuto cancellare un video perché non lo so che è successo non si vedeva bene ho perso tre minuti quindi fa niente tanto tonno stasera vado a fare un giretto vediamo cosa c'è in giro a presto ragazzi a presto grazie che vi state iscrivendo sul canale